E' tutta indirizzata ai giovani l'Alexio Magistralis di Enrico Mentana. Sul palco della festa del libro e della lettura all'auditorio Un Parco della Musica di Roma, il giornalista racconta la sua storia. Da quando scoprì la passione per il giornalismo a quando nel 2010 diventa direttore del Tg di La Sette. Lì Mentana ha cambiato il giornalismo televisivo, dopo averlo compreso, come dice lui, per confutazione, per ironia. Un telegiornale fatto solo di hard moves, come si dice in termini tecnici, tutte le notizie che è importante che un cittadino italiano responsabile debba sapere alle 8 di sera. E' stata una formula di successo, perché era un tipo di prodotto di cui si chiedeva la presenza sul mercato dell'informazione televisiva e che in quel momento non c'era. E soprattutto ai giovani che vogliono diventare giornalisti, Mentana dice non accontentatevi, non andate con la ciotola in mano, il giornalismo è una passione ma non basta. Il giornalismo è fatto di fiuto, di passione, di naso, di tenacia, anche a volte di un po' di pelo sullo stomaco. Perché il giornalismo è soltanto e semplicemente l'essere tramite tra una notizia, un fatto, una tendenza e il fruittore finale che è evidentemente chi segue le informazioni, chi la legge, chi la sente, chi la guarda. Un invito alla rivolta, al cambiamento e alla dignità che le generazioni più giovani devono imparare a pretendere. In platea, tanti ragazzi delle scuole romane. Mentana li saluta con un augurio. Abbiate sempre la curiosità divorante per fare quello che gli adulti non sono riusciti a fare, cambiare il mondo.